La CISL presenta un'avvertenza per i lavoratori del centro commerciale Il Mulino di Pescara a far scattare l'intervento del sindacato alla chiusura di uno dei pochi locali commerciali rimasti aperti. In questo caso però la situazione non sarebbe imputabile esclusivamente a un fattore economico pare infatti che la causa dello spopolamento della struttura sia dovuta dalla presenza di senza tetto e tossicodipendenti. Si tratta sempre di una crisi, quindi di un calo di fatturati enorme, però non dovuto a fattori esclusivamente di natura crisi. Abbiamo dei fattori che si sono generati a causa di uno svuotamento progressivo di quel centro commerciale. Stiamo parlando dell'unico centro commerciale di prossimità su Pescara. Il Mulino ha anche una bella struttura che non è mai stata completamente piena, riempita, ma oggi vede svuotarsi anche dalla penultima attività esistente, ovvero il bar, che si è andato via da circa qualche giorno, una decina di giorni, e in più vediamo che il supermercato continua ad avere sempre ingressi minori. È stato annunciato un tavolo di concertazione tra la proprietà, i rappresentanti del sindacato e il prefetto della città di Pescara. Attualmente gli impiegati in questo supermercato sono 32, però abbiamo già un disagio lavorativo molto forte, in quanto una buona parte di loro è soggetta a trasferte sull'Aquila, sul punto vendita GS Carrefour dell'Aquila. Come FIS e SCACIS le abbiamo indetto un confronto, un tavolo aperto in prefettura, alla presenza del prefetto stesso, del sindaco e del presidente della provincia, oltre che dell'ufficio provinciale del lavoro, perché? Perché l'obiettivo è di riqualificare, perché non si tratta solo di rimettere attività commerciali nel giusto contenitore, ma si tratta anche di ordine.